Bentornati ragazzi, qui è Stepney e questo è il progetto di cui avevo parlato negli altri video Allora, per chi non l'avesse ancora capito, questo è il progetto che io faccio per sponsorizzare voi che mi chiedete in continuazione di nominarvi o farvi un po' di pubblicità Allora, io mi sono scritto la lista di tutti voi che me l'avete chiesto e comincio subito Allora, devo nominare It's Manga, Pasco, a cui faccio un saluto speciale perché ci parlo tutte le serie su Facebook Poi The Soldier of Code, che è un grafico abbastanza disponibile e molto bravo Poi Riki, con il quale parlo sempre su Facebook anche lui Poi ItoxicSniperTeam, che sta cercando clan Quindi, se siete un clan e siete disposti a provinarlo, beh, aggiungetelo Poi Tim, Evan e Wu Anche loro sono un clan e stanno relutando Mi raccomando, fateci un salto Poi un mio amico, iHearts E OPEC309 Oltre a loro, volevo sponsorizzare due canali Uno è AnthonyGames1995 E MyBestGameplay Allora, fatemi sapere se questa idea che ho dedicato a voi può piacervi Almeno andrò avanti con altri video come questo E niente ragazzi, per oggi ho finito Spero che questa idea possa aiutarvi a crescere E niente, vi saluto Ciao a tutti